Poker di reti per la All Black, che supera 4-0 una Locomotive Zena in affanno. Si è visto subito che i voltresi cercavano i tre punti. Lo hanno fatto con una prova convincente caparbia. La Locomotive Zena ha evidenziato qualche problema in avanti, non riuscendo a rendersi troppo pericolosa. La All Black ha preso il pallino del gioco con il passare dei minuti. Ad andare in gol sono stati Alberto Gai e Davide Morello, entrambi autori di una doppietta. La vittoria della All Black avrebbe potuto essere ancora più ampia, ma alla fine il punteggio finale è stato di 4-0. Con questo successo la All Black balza al comando della classifica. La Locomotive Zena resta a 0 punti e deve ancora trovare la forma migliore per poter essere più competitiva.